Bene ragazzi sono DizzyBlack e vi do benvenuto in questo nuovissimo gioco cioè Evoland Questo gioco che ha fatto la storia che è fatto da una storia veramente bellissima Cioè la storia dei videogame Si inizia dall'inizio cioè dal 2D o qualcosa del genere Fino alla fine al 3D e forse anche più avanti Quindi ragazzi non potiamoci inchiacchere e iniziamo subito Perché non sto nella pelle di vedere il gioco Perché veramente è un gioco bello Ok, abbiamo sbloccato il movimento destra Ogni volta che tocchiamo una cassa si sblocca un movimento o qualcosa del genere Adesso abbiamo sbloccato i movimenti in 2D I basi, le, il basic scrolling o che cacchio è Ah il movimento vedete? Ok ho capito, il movimento di quando si arriva da un certo punto vedete che si sposta tutto Credo sia questo I suoni, perfetto Oh mio dio sono eccitato Lo smooth scrolling cioè questo è il movimento che ci segue Non come prima che devi arrivare alla fine Che è una cosa veramente figa Ok questa è erba Non si spacca, perfetto andiamo giù Una cassa, una spada, perfetto Che bello avere una spada Ok I mostri Ok devo stare attento perché con un colpo questi qui ci fanno secchi Allora Tecnicalmente non li prendo Scappa zio Abbiamo sbloccato la musica, perfetto Oddio Stronzi Come faccio ad ucciderli? Ottanta caga Ok uno ho fatto secco Oh Vieni zietto non aver paura Oddio Ottanta caga Allora Secco Meno male che devo decrepare Passiamo di qua Vediamo Un'isola Una cassa Abbiamo il salvataggio Perfetto Abbiamo salvato Wow che figo Un ponte Andiamoci C'è l'erba Una cassa Una stella Perfetto Che cacchio ci serve Non lo so ma fa lo stesso Andiamo più a destra a vedere Non c'è niente No No Salviamo di nuovo Salviamo di nuovo Di nuovo Ok basta Allora vediamo un po' Cosa posso fare Di qua non si passa Cosa è sta storia Cos'è sta storia Ah ok passiamo dall'altra parte Risalviamo Per precauzione Ok mi ha sbloccato Oh te la mia Che cazzo Abbiamo sbloccato i 16 colori Oh mio i colori Che paura che mi fa Era meglio quando era grigio Sinceramente Adesso fa più paura Allora devo riuscire ad ucciderli Fottiti Stronzo Ok Porco zio Salvo di nuovo Per precauzione Perché è una caga nera Che mi facciano La pelle Così non si spaccano E' più sexy adesso Così con i colori Veramente Mi piace Dai Andiamo Andiamo Pian piano Pian piano Io 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 Fanculo Mi ha ucciso Perfetto Ok Continuiamo Mermore che ho salvato Se no Sarei fottuto Primo Epic File Ok Basta con i diversi Ma Ok perfetto Se no non riesco a giocare Qui c'è una cassa O che cacchio è Non si passa Ok Ho già trovato Un coso bastardo Un pio pistrello O che cacchio è Salviamo Una cassa Che fighe le casse A short story of adventure Video games evolution Wow Un inglese perfetto Ma è solo una cosa che capita After centuries of peace An Ascent Evidence No non riesco a leggere Porco disco Allora vediamo di farci un riassuntino Del cazzo Eh 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 Sì sì Interessante Ok ho capito tutto No no Non sto scherzando Ho capito niente Ok abbiamo visto la storiella Salviamo ragazzi Poi magari dopo Ve lo metto nei sottotitoli Che cazzo c'ha scritto Perché non l'ho letto Allora C'è un'altra cassa Vediamo cosa contiene sta cassa Magari un bazooka Ci starebbe dai Un'altra stella Wow Perfetto Secondo me Super Mario Nuo Con queste stelle Forse si riferisce a Super Mario Wow Che intelligenza Uccidiamo Questo bastardo I 256 colori È più figo Oh mio addio Che canino Oh veramente bellissimo No Non vi mostro Non li voglio Salviamo salviamo Spacca le pietre Non si spaccano I segnali O che cacchi sono This pack is reserved for blah 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 È riservata per qualcuno Dobbiamo prenotare Scusatemi Non lo sapevo Che bisognava prenotare Ok Andiamo Non si può andare Ah ok si può Abbiamo un altro Free movement Cioè Uh si può andare in tutte le direzioni Cioè in diagonale Perfetto raga Allora The access blah 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 È veramente No aspettate che non ho capito L'accesso è bloccato Si deve andare a est forse Ok andiamo a est Intanto Uccidiamo due di questi tipi Sperando di non crepare Piano Piano Muore bastardo Ok Oh mio addio Mi ha spaventato Ma vaffanculo Allora ricominciamo Mi piace questo gioco Seriamente No abbiamo ancora i movimenti vecchi Ok devo salvare la prossima Cioè Ma vaffancuba Allora Dobbiamo riprovarci Continua Gli epic falci sono sempre Uh Su chiamelo Piccolino Ok Nananananananananananana Ok basta Allora Eravamo in questo punto I segnali Che non si poteva andare nell'area di destra Non uccidiamo nessun mostro Perché sennò Siamo fottuti Sblocchiamo le cose E arriviamo nel punto di prima Free movement Ok abbiamo i movimenti gratis Oh mio addio No scherzo Sono i movimenti Scappa Ok ho paura di quel pipistrello bastardo Ok Oddio vi odio Siete sempre in mezzo alle palle Andiamo da questa parte Doviamo trovare qualcosa di sicuro qua Ok un tubo Perfetto Perfetto Non abbiamo trovato un tubo Salviamo per sicurezza Scendiamo da questa parte Andiamo a destra Scendiamo più in giù Sbacchiamo le pietre Non si può Nemmeno questa Oh mio addio Come si fa allora Ho capito Aspettate Provo a schiacciare i tasti alla cavolo di cane No Non funziona nemmeno questo Ok Ok Un cubo No scherzo Muori Ah io sono un professionista Farsetti i mostri Ritorniamo nella zona di prima Forse non ho fatto qualcosa io Allora Pian piano ce la faccio E giù A destra A sinistra Che cacchio è Oh mio addio Andiamo di qua Andiamo Non c'è un cazzo Lì c'è qualcosa Oh mio addio Abbiamo salvato Oh che cazzo è quella roba Scusami Non volevo E lui invece voleva Meno male che abbiamo salvato Meno male E riproviamo Salve signori L'inventario Perfetto Come si apre Ok Oh che figo Abbiamo sbloccato l'inventario Allora abbiamo la spada E la spada Torniamoci Torniamo fuori di questa roba E buon salve signori Succhiatevi la fava No 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 Sono fattuto Veramente Muori bastardo Ok è morto Ancora l'altro Mi è fatto fuori Però ho salvato Con uno morto Se non sbaglio No vabbè Vabbè ragazzi Vi saluto Spero che vi sia piaciuta La prima parte del gameplay Di questo gioco Veramente bellissimo Io parere che mi piace Mi sta piacendo E non vedo l'ora Di farci un altro video Quindi ragazzi Come al solito Se vi è piaciuto il video Lasciate un bel like Un pollice in su E anche un altro like Un commento E come al solito Condividete Da di si perché è tutto Ciao alla prossima Bella E vi è questo gioco La 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 Si è certo che voglio andare Bene il testo di cazzo